Amici di Passione Tennis, bentornati qui sul canale, buona la prima per Yannick Sinner che batte l'australiano Kokkinakis con il punteggio di 6-1-6-4, anche se poteva chiuderla prima, ha avuto match point anche sul 5-3 il servizio Kokkinakis, ma non ci sono stati problemi perché dopo ha servito sul 5-4, 4 punti di fila, senza problemi. Partita andata via liscia come l'olio, buona la prima quindi per Yannick Sinner e ovviamente tutti ci aspettiamo che faccia un grandissimo risultato, anche perché come detto nella live del salottino nel canale di Walter, del Man of the Sports, Sinner fino ai quarti, ottavi quarti, non dovrebbe avere, e incrociamo le dita, particolari problemi ad arrivarci. Perché gli è capitato, secondo me, e secondo tutti noi del salottino, un tabellone abbastanza agevole fino a quel punto. Dopodiché parliamo anche, visto che ci siamo, comunque, ah ecco, un'altra cosa sempre di Sinner, che ovviamente lui in un'intervista ha detto che in questo periodo gli è servito, dove non ha giocato a Madrid, per ricaricare le batterie, e vedendo questa partita direi che è proprio così, cioè si vede che è un altro Sinner, molto carico, non si può giocare certo tutte le settimane, veramente, lui ha fatto un tour de force a partire da Montpellier, quindi, secondo me, questo periodo di tempo di riposo forzato, anche se in realtà si è allenata, ha ricaricato le batterie, però gli è servito e speriamo che qui a Roma possa fare bene. Altra menzione, Arnaldi ieri sera ha battuto l'argentino Svartsman, che comunque sappiamo non veniva da un ottimo periodo, però è sempre un finalista qui a Roma nel 2020, ricordiamo quando si giocò a settembre e batte Nadal e perse in finale da Djokovic. Ovviamente adesso non è in forma come in quel periodo, però è sempre un giocatore ostico, quindi comunque vincerci al terzo set è comunque buono, per un Arnaldi che, ripetiamo, era fuori dai primi 100, prima del torneo di Madrid, è appena dentro i primi 100, il 99, adesso con questa vittoria, non so, bisognerà vedere, comunque sta a malapena dentro i 100, però ecco, è un giocatore in crescita, un giocatore che, come detto anche, ho detto io nel salottino, mi aspettavo facesse comunque una buona prestazione, perché è un giocatore che adesso è esploso, gioca bene, gli era fatto dei punti straordinari, e si è regalato quindi il derby contro Lorenzo Musetti, quindi comunque vado un italiano al terzo turno, ci sarà sicuramente in questo internazionale. Poi, peccato per Napolitano, Cobolli, insomma tutti questi italiani che hanno perso, Zeppieri al terzo set, perché secondo me avevano buone possibilità di andare al turno successivo e mi dispiace, ecco, soprattutto per Napolitano, che non è più proprio giovanissimo, che ha fatto un sacco di partite dalle prequalificazioni, le qualificazioni, però speriamo che sia di buon auspicio per il futuro, dai, per il proseguo quantomeno della stagione e per il futuro in generale. Poi, ottima partita ovviamente di Fognini contro Murray, non sto qui neanche a dirlo, però, come detto, si sta regalando gli ultimi sprazi, sappiamo che Fognini punta soprattutto al doppio, per essere pronto nel doppio, perché ne eravamo anche convinti noi del salottino l'altra sera, insomma, punta al doppio di poter vincere la Coppa Davis da protagonista con Bolelli, perché con il nuovo format della Coppa Davis il doppio è ancora più fondamentale, quindi loro sarebbero artefici eventualmente della vittoria dell'Italia in Coppa Davis, perché sull'uno pari il doppio è assolutamente decisivo. Beh, più o meno ho detto tutto, ovviamente brave anche, comunque, per quanto riguarda le italiane, anche se sono praticamente quasi uscite tutte, ci rimane, mi sembra, la Giorgi, la Paulina, la gocciaretta ha perso ieri, anzi, vediamo un attimo nel tabellone chi è che gioca oggi. Beh, sì, la Giorgi giocherà contro l'Alexandrova, ah, c'è anche la Pigato, eh, la Giorgi, però vabbè, la Pigato contro la Casacchina, gli do poche chance, la Pigato fortunatamente ha avuto quel derby al primo turno con la Cherubini, se no, dubito, poteva stare al secondo turno, però se la gioca è tutta esperienza. Ecco, mi dispiace per la Paoletti che ha perso veramente una partita combattuta al terzo set, con possibilità di arrivare quantomeno al tie-break del terzo set, purtroppo ha perso prima il servizio, però la Paoletti, secondo me, rimane anche da quello visto dal tennis espresso contro la French, che comunque non è certo l'ultima arrivata, comunque lei dominava gli scambi, lei faceva il bello e il cattivo tempo, purtroppo poi sono aumentati troppo gli errori, soprattutto nei momenti importanti, però, ripeto, la Paoletti, che comunque è 1,80, quindi tra le giocatrici più alte anche che abbiamo di quelle giovani, fisico, longilinio, anche se ho visto che rispetto, ah, io non la vedevo giocare dal torneo di Palermo dell'anno scorso, quindi contro la Totenna, ha messo anche dei muscoli, insomma, si sta formando fisicamente, quindi non è solo esile, soprattutto, però, ripeto, ecco, si muove veramente bene, ha un ottimo tennis, deve solo trovare, secondo me, la quadratura del cerchio, ma se la trova, questa è una giocatrice che ci darà tante, tante, tante soddisfazioni, perché è una giocatrice a tutto campo, sa fare tutti i colpi bene, si muove bene, mi piace, mi piace come gioca questa ragazza, quindi io spero nella Paoletti per quanto riguarda il tennis femminile. Comunque, ritorniamo a noi, Sinner al secondo turno, abbiamo anche Cecchinato, quindi Fognini, Arnaldi, Musetti, e quindi, anzi no, Sinner, scusate, questo dovrebbe essere il terzo turno, i 32esimi di finale, esatto, quindi Sinner è già il terzo turno, scusate, un lapsus, e oggi c'è anche Fognini-Kezmanovic, però, ripeto, su Fognini non ci facciamo false illusioni, comunque, io spero che batta anche Kezmanovic, però, è andata così, Sinner comunque liscio come l'olio, ovviamente è il giocatore su cui puntiamo tutti per questi internazionali d'Italia, speriamo che quindi vada tutto bene, vada almeno secondo i piani fino ai quarti, ottavi, e poi staremo a vedere poi per semifinale e finale. Bene, il video finisce qui ragazzi, vediamo se poi ci saranno risultati importanti, farò altri video nei prossimi giorni, comunque penso che comunque un video nel weekend uscirà comunque tra sabato e domenica, quindi tra domani e dopodomani, e poi settimana prossima, sperando che tutto vada secondo i piani, incrociamo le dita, ciao ragazzi, ciao, ah, ovviamente iscrizione al canale, lasciate like, commentate, ciao ragazzi, ciao.